Ma se escludiamo i motori diffusi tra marchi che appartengono allo stesso gruppo, ci sono comunque diversi casi di altri che, a seguito di accordi vari, si sono ritrovati sotto diversi altri cofani. Acquistare un motore è frequente nel caso delle piccole factory semi-artigianali, che producono poche unità e che non potrebbero affrontare il costo e la complessità della produzione propria di un motore. Ci troverete modelli di serie. Qualcuno a dire il vero già fuori produzione ma emblematico. E altri speciali che riprendono molto fedelmente l'idea originaria. Vetture a due o quattro porte. Di marchi popolari e non. Che hanno in comune l'aver voluto proporre qualcosa di non convenzionale a volte come alternativa alla wagon più classica. Anche questa conservava il V12 aspirato da 6 litri. 603 cavalli vapore e 630 newton metri di coppia. La trazione posteriore e il cambio automatico a otto marce. Ma aveva il pregio di rendere al tempo stesso più unica e un tantino più pratica la bella coupé di Gaydon. Il prezzo era fissato in poco più di 900.000 euro, calcolando l'IVA italiana. La potenza del motore aspirato V12 da 6,3 litri è stata aumentata da 660 a 690 cavalli vapore. Per una coppia massima di 697 newton metro 1750-5750 giri e una velocità massima di 335 chilometri all'ora. Prezzo? Circa 260.000 euro. Poco dopo è stata proposta una variante. La GTC4 Lusso T. Con il V8 biturbo da 3,9 litri della 488 GTB da, soli, 610 cavalli vapore ma con 760 newton metro di coppia. A poco meno di 226.000 euro, era un po' più economica e rinunciava alle quattro ruote motrici ma non a quelle sterzanti. È interessante notare che ha esattamente le stesse dimensioni della berlina stessa, ovvero 4,69 metri di lunghezza, 1,85 di larghezza e 1,40 di altezza per un passo di 2,84. Tuttavia, gli ingegneri sono stati in grado di aumentare la capacità di carico del 40% rispetto al modello standard grazie alla carrozzeria ridisegnata a cui si aggiunge un sedile posteriore in tre parti con suddivisione 40 ore 20 minuti e 40 secondi. La più accessibile attualmente sul mercato è stata presentata nel dicembre del 2018 come la prima shooting brake a 5 porte di un produttore generalista nella classe delle compatte, lunga 4,61 metri, offre motori turbobenzina 1.0 da 100 e 120 cavalli vapore, il 1.5 TGDI da 160 cavalli vapore e il 1.6 TGDI da 204 cavalli vapore, mentre chi preferisce un diesel può avere il 1.6 da 136 cavalli vapore. I prezzi partono da 31.050 euro, non pochi per una wagon, ma non troppi per una coupé che offre anche spazio in abbondanza. Nel suo caso, tuttavia, l'esperienza si è ridotta a una sola generazione. Arrivata nel 2012, con la seconda serie della CLS, è uscita di scena nel 2018 e non è stata riproposta sulla successiva e attuale terza serie. La gamma di motori comprendeva diesel da 170 a 265 cavalli vapore, più motori a benzina tra 252 e 585 cavalli vapore e anche trazione integrale. E non mancava al top dell'offerta la CLS 63 AM GS4 Matic Shooting Brake da oltre 500 cavalli vapore. A renderla davvero speciale però era il bagagliaio, non il più grande della categoria in rapporto alle dimensioni, 590-1550, e poco più capiente di quello della quattroporte. Ma certamente il più sontuoso visto che proponeva in opzione nella linea di allestimenti designo il piano di carico in legno di ciliegio, rover e alluminio ispirato alla pavimentazione degli yacht. Identica la gamma, che spazia su potenze comprese tra 330 e 680 cavalli vapore mentre i prezzi partono da 104.156 euro. Il primo è un noto progettista di automobili. Il secondo un carrozziere con 50 anni di esperienza che un tempo realizzava varianti raffinate di modelli Mercedes mentre oggi si dedica a progetti speciali. Questa sorta di station wagon Rolls Royce, prodotta in sole 7 unità, si chiama Carat du Châtelet Silver Spectre Shooting Brake e si distingue per il lungo tetto realizzato a mano e progettato in modo da adattarsi perfettamente alla forma della REF. Il motore è il V12 biturbo da 6,6 litri di serie ma potenziato per portarlo da 632 cavalli vapore e 800 Nm. 870 Nm con il black badge, a 700 cavalli vapore e 900 Nm. Il prezzo della trasformazione non è noto, ma fino allo scorso anno una Rolls Royce Red costava 300.000 euro. La carrozzeria è stata ridisegnata dal montante B in poi, per ottenere una parte posteriore dal look autonomo e una forma a goccia con l'abitacolo che si restringe verso la parte posteriore. Dando enfasi ai passaruota svasati. I motori includono un'offerta ibrida plug in compotenza di sistema di 218 cavalli vapore. Motori a benzina con potenze comprese tra 190 e 320 cavalli vapore e diesel da 150 e 190 cavalli vapore. In Germania il prezzo parte da 42.790 euro. Non è tutto. L'M104 è stato prodotto su licenza anche in Cina e montato su RAWW5. Un SUV a sua volta realizzato su base Chiron. in Germania il prezzo parte da 42.790 euro. Non è tutto. L'M104 è stato prodotto in Germania.